Neve, neve e ancora neve a Abroel Cervigna. E allora seguiteci insieme ai pisteur della località. Adesso scendiamo, facciamo il primo pezzo in fresca sulla pista numero 24, poi giriamo al bivio, facciamo la pista 9 bis e ci colleghiamo sulla pista numero 5 di rientro a Cervigna. E' bellissimo, lo consiglio a tutti. E' molto ideale per fare fuori pista, sole, neve fresca e naturalmente sciare in sicurezza. Fatica? Nessuna, assolutamente, è un piacere, non è una fatica. Siamo a Cime Bianche Laghi, adesso scenderemo giù lungo un pezzo di ventina e cercheremo il cielo alto, dove abbiamo le uniche piste nere della nostra stazione. Musica 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 Grazie a tutti.